Come si esce da questa situazione? Con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto a Salò, perché questa è l'unica soluzione, al di là dei moduli e al di là della nostra volontà, perché ci vuole qualcosa di diverso. Sotto esame è proprio il modulo che continua a scegliere il tecnico? Abbiamo lavorato per quel sistema di gioco, anche per dare un'idea e una propensione più offensiva alla nostra squadra, perché in questi anni si è sofferto, perché c'è la volontà di esprimere un calcio migliore, essere più offensivi, quindi abbiamo programmato e progettato il nostro progetto tattico proprio su queste caratteristiche. Ma credo che il modulo poi sia relativo, ci lavoreremo, il mister ci lavorerà, per mettere nelle condizioni giuste tutti i calciatori, questo è ovvio. Già da sabato si potrà vedere un modulo diverso? Ma ripeto, andiamo sempre sulla stessa domanda, ma credo che sia relativo, perché se non ci mettiamo un atteggiamento diverso puoi giocare con qualsiasi sistema. I tifosi in particolare criticano anche alcune scelte di mercato, lei si sente anche in qualche modo, tra virgolette, responsabile di queste scelte? Ovviamente, faccio questo ormai da tantissimi anni, ho già avuto la stessa idea progettuale sia anche a San Benedetto, ma anche a Carrara, e in quel caso siamo partiti benissimo, poi è stato disputato un campionato importante. Campitelli mi ha messo nelle condizioni migliori per poter fare mercato. Anche se il Presidente da subito ha dichiarato che quest'anno avrebbe fatto una squadra con un budget ridotto. Ma non è importante, contano poi a quel punto le idee, solo che quello che si chiede è che alcune volte le cose riescono subito, altre c'è bisogno di un po' più di tempo. Quindi ovviamente con una squadra completamente stravolta e non giovane, quindi si chiede forse un po' più di tempo, perché poi gli automatismi devono essere anche collaudati, e alcune volte si riesce subito, altre c'è bisogno di un po' più di tempo. Sotto esame l'allenatore? Ma no, no. È una domanda scontata, perché siamo tutti sotto esame, e abbiamo delle responsabilità importanti, noi, e non, ripeto, il Presidente e la proprietà, perché hanno fatto di tutto per metterci nelle condizioni migliori. Quindi siamo abituati a questo, e l'argomento principale è la partita di sabato. Grazie. 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 Grazie.